Ciao a tutti, sono Nicole. Bentrovati con la rubrica I consigli delle stelle. Vediamo insieme la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 12 al 19 agosto. In ultima posizione troviamo il segno dei pesci. Non meditare vendetta, la cattiveria viaggia sempre con il biglietto di ritorno in tasca. Toro, fuori dalle tue paure c'è un sole bellissimo. Bilancia, il dubbio deve essere solo sul come riuscirai, non se riuscirai. Scorpione, non smettere di sognare solo perché una volta hai avuto un incubo. Ottavo posto per l'acquario, diffida da chi vuole farti sentire in colpa. Di solito è il colpevole. Settimo posto per il leone. Ricorda che il cuore che ama è sempre giovane. Sagittario, la vita non migliora per caso, migliora per scelta. Gemelli, se costruisci in silenzio la gente non sa cosa attaccare. Vergine, ogni pensiero positivo che fai oggi è un incantesimo silenzioso che cambierà il tuo domani. Terzo posto per il cancro. Ciò che vuoi arriva quando sei felice di ciò che sei. Secondo posto per l'ariete. La vita ti permette di conoscere, però poi sta a te riconoscere. In prima posizione questa settimana c'è il segno del capricorno. Quando sorridi non c'è altro da aggiungere. Questa settimana sarà l'insegna della spensieratezza. Appuntamento alla prossima puntata con i consigli delle stelle. Buona settimana!